segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te diciamo che la che a tradirlo è stata stata la malattia se lui non fosse stato ammalato e quindi doveva curarsi quindi avrebbe diciamo e si sapeva questa cosa è importante dirlo perché non arriva a dicembre la notizia che è malato sapevamo che era ammalato che aveva un problema agli occhi aveva un problema renale si sapeva comunque aveva un problema di cure e doveva essere e quindi si si sa questo ha reso possibile e questo è la cosa scusa perché la cosa trasparente qual è quando il momento in cui si sa attraverso le intercettazioni familiari che lui ha un tumore e quello che colpisce quindi ti devi curare in un certo modo lì si apre lo spettro diciamo delle ricerche in italia sulle cliniche sui pazienti su quei pazienti di quell'età di con quelle fisionomie e quindi arrivi se non fosse stato così non l'avrebbero mai provato sul tema torniamo e vedevo però invece grazie